Sono davvero contento e commosso. Per me è la prima ordinazione diaconale che il Signore mi concede di conferire a voi, cari giovani, 34 giovani della congregazione dei regionali di Cristo. Sei certo che mi siano digni dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del viattonato. Grazie. 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 Grazie.